Ciao a tutti ragazzi, qui Arc vi parla. Parliamo un pochino nuovamente di Black Ops 4 con qualche rumor, o comunque qualche immagine che è stata trovata in-game un pochino interessante. Infatti proprio in questi giorni che c'è stato quell'update grossissimo del 5 di novembre, ha cambiato tantissime cose, è stato un aggiornamento per tutti i giocatori, prima PS4 e Xbox One, e subito il giorno dopo, come al solito, anche per PC, dove molto spesso capita comunque di finire offline perché arriva l'aggiornamento, quindi si può magari aprire il menu e vedere qualche schermata leggermente diversa perché offline o comunque quando si sta aggiornando cambia le schermate e le immagini e solitamente non c'è nulla di interessante, però questo ragazzo su Reddit si è accorto che un'immagine utilizzata per zombie con la scritta Voyage of Despair ci mostra invece gli zombie di The Rise and Dracke di Black Ops 3. E una cosa simile può capitare se andiamo offline sempre su Black Ops 4 e per indicarci la modalità zombie generale c'è un'immagine di Shadow Survival. Purtroppo questa immagine è stata confermata dai menu in game e anche dal codice, sono soltanto dei placeholder, quindi delle immagini utilizzate semplicemente per metterci qualcosa e poi in seguito essere sostituite per le immagini già decise in futuro per Voyage che sono tipo le immagini dei quattro personaggi della storia Chaos, o ad esempio per Tag der Toten le immagini dei Victims o comunque lo sfondo del farro, tutte immagini già predisposte e semplicemente hanno utilizzato queste che forse erano già disponibili nel codice o semplicemente erano già pronte e messe lì soltanto come placeholder in attesa di mettere quella già definita in anticipo. Questo però ha riacceso moltissimi rumor davvero vecchi di forse anche diversi mesi fa in cui tutti discutevano del fatto che potrebbero teoricamente riprendere tutte le mappe di Zombie Chronicles 1 e portare direttamente su Black Ops 4 o insieme a Zombie Chronicles 2 o direttamente in maniera gratuita per i possessori del primo Zombie Chronicles. Che già questo sembrava strano perché dal punto di vista dell'Activision che vuole sempre in qualche modo lucrare e comunque avere il finanziamento massimo, avere tutti i soldi possibili e immaginabili che entrino in qualunque modo che siano giochi, season pass, microtransazioni e altro anche se con questo Modern Warfare per adesso sembra andare leggermente meglio sembrava qualcosa di assurdo il poter rigiocare tutte le mappe di Black Ops 3 anche su Black Ops 4. Questo rumor era nato soprattutto dal fatto che a quanto pare tutte le mappe da Gord Crovy in poi quindi Gord Crovy, Revelations e tutto Zombie Chronicles era stato fatto con il sistema di Black Ops 4 a cui già stavano lavorando da diverso tempo e poi semplicemente le mappe venivano riportate sul sistema di Black Ops 3 immagino cambiando qualcosa nel codice, nella grafica e tutto il resto che c'è nel development di una mappa o comunque di un gioco. Quindi molti pensavano se l'hanno fatto direttamente con l'engine e tutto il sistema di Black Ops 4 dovrebbe essere abbastanza semplice o comunque dovrebbero sapere come portarle direttamente da Black Ops 3 a Black Ops 4 in maniera praticamente diretta, puoi magari anche tenere la stessa grafica, non ampliare troppe cose, rimuovere ad esempio le Gabble Gam e inserire tutto quanto con gli Elisir, le Special Weapon e tutto il resto e secondo me sarebbe spettacolare perché su Black Ops 4 già abbiamo 8 mappe che non è per niente male perché sono 4 Chaos e 4 Ethere. E però aggiungere tutte le mappe del primo Zombie Chronicles e magari anche alcune mappe di Black Ops 3 o magari del Season Pass o direttamente tutte le mappe del gioco che sono se non sbaglio 15 questo porterebbe il totale a ben 23. Mancherebbero poi le altre mappe di uno Zombie Chronicles 2 di cui ancora si vocifera ma ancora nulla di confermato come al solito si tratta di leak, rumor e tutto quanto. Quindi sarebbero altre 3 mappe, Transit, Rise e Buried, per un totale di 26 mappe che in un gioco zombie come Black Ops 4 penso che riaccenderebbe davvero tanto l'interesse della community dato che sicuramente al lancio l'interesse era molto basso perché c'erano soltanto due mappe Ethere anche se Bloodhead è stata davvero molto apprezzata però Classified era dietro il Black Ops Pass e le altre due erano mappe Chaos poi come al solito ne ho imparato tantissime volte l'interesse è molto calato perché i primi due DLC erano mappe Chaos e per Ethere si è aspettato DLC 3 e 4 luglio e settembre che erano davvero molto molto lontane. Però riportare tutte le mappe di Black Ops 3 e con queste anche tutta la storia dei primis direttamente da Black Ops 3 a Black Ops 4 ottenendo praticamente lo stesso sistema di gioco eliminando soltanto le Gabblegam che andranno sostituite come sempre dagli Elisir però avere tutte le mappe di World at War sarebbero perché sono tutte le rimaste di The Natch, Verruck, Tshinonuma e The Ries o The Giant di Black Ops 3 tutte le mappe di Black Ops 3 e anche le altre di Zombie Chronicles 1 quindi Kino, Ascension, Origins, Shangri-La e le uniche a mancare sarebbero appunto la cosiddetta Victis Chronicles con le tre mappe mancanti e a quel punto avremo praticamente tutte le mappe zombie mai create più o meno nello stesso gioco che sarebbe qualcosa di assurdo molto strano per Black Ops 4 dove moltissime persone magari hanno già abbandonato il gioco io per adesso sono in una piccola pausa però molti fin da subito sono tornati nei capitoli precedenti o adesso che è finita la storia etere per molti in maniera non perfetta o non soddisfacente hanno deciso di considerare, non dico però, Black Ops 4 come mai esistito però molti hanno preferito chiaramente capitoli precedenti come Black Ops 3 ad esempio che è stata una certa rivoluzione ma non esagerata come Black Ops 4 e dove comunque il supporto e l'attenzione della Treyarch si è vista davvero tanto Black Ops 4 ha avuto i suoi problemi con il budget tagliato contenuti mancanti come di recente abbiamo visto le fazioni, le custom mutations e altro e in generale poca comunicazione sui social da parte di Activision, di Treyarch adesso tanto andando proprio indietro sui loro passi cancellando anche alcuni tweet, alcune immagini, alcune risposte il che fa capire che moltissime cose sono state proprio completamente cancellate e non le vedremo sicuramente su Black Ops 4 come le fazioni spero magari di poterle vedere in futuro come contenuti o cose di simile per richiamare a quel contenuto però in generale comunque parlare per così tanto tempo di contenuti appunto come le fazioni o anche il Newton's Cookbook che di recente abbiamo praticamente confermato dato che hanno cancellato il tweet che non lo vedremo mai su Black Ops 4 è davvero davvero un peccato però avere così tante mappe zombie in un solo capitolo non sarebbe per niente male anche se ripeto per molti magari il gioco come avere un sistema di creare una classe con le special weapon, tutti i perk diversi non so se si sposerebbe bene come è stato invece per Roll Zombie Chronicles 1 di Black Ops 3 dove semplicemente si incastravano le vecchie mappe con un sistema relativamente nuovo come ad esempio anche le Gubblegum, i liquidi vinium e quelle piccole cose comunque che potenzia le armi e avere alto forno e tutto il resto ma alla fine il gameplay base era praticamente lo stesso non c'era stata nessuna rivoluzione esagerata dal punto di vista del gameplay era semplicemente spawna, compra le Gubblegum, compra i perk, compra le armi, potenzia le... fai i passaggi che siano magari i rituali di Shadow of Evil, attivare il Pack-a-Punch fai gli arc di Rise and Dracke come Wonder Weapon su Gold Gravit hai tutti i passaggi per attivare il Pack-a-Punch andare nella seconda location dove c'è appunto il Pack-a-Punch fare le uova di Drago, usare i draghi su Revelations anche spostarsi in tutti i luoghi era qualcosa di molto diverso dal punto di vista soprattutto di setup però alla fine il gameplay era praticamente lo stesso che abbiamo visto in tutti gli anni mentre su Black Ops 4 con il sistema di creare una classe le Elisir sono praticamente la stessa cosa del Gubblegum, leggermente cambiate però specialmente nel creare una classe per le Wonder Weapon, scegliere l'arma iniziale, le granate anche scegliere 4 perk su praticamente 20 quelli che sono di Black Ops 4 è qualcosa che è molto molto diverso e appunto magari potrebbe non funzionare bene con tutte le mappe precedenti specialmente in quelle come The World at War di Black Ops 1 che la semplicità ha sempre funzionato tantissimo e contava solo il gameplay mentre abbiamo visto da Black Ops 3 in poi come la storia fosse una parte molto molto più importante il gameplay non fosse per forza in secondo piano ma sicuramente non era al stesso livello di importanza quindi a voi invece piacerebbe? secondo voi starebbe bene un Zombie Chronicles 2 con tutte le mappe di Zombie Chronicles 1 di Black Ops 3 riportate su Black Ops 4 insieme anche alle 3 mancanti a quel punto magari fare un pacchetto unico per tutte le mappe a un prezzo sicuramente più alto mentre perché ha già Zombie Chronicles 1 di Black Ops 3 quelle vengono portate in maniera gratuita e si paga soltanto un pezzettino tipo 10-15 euro per avere le 3 mappe mancanti di Victims Chronicles Transit da Rise of Valid per proprio avere l'esperienza completa in assoluto di tutta la storia etere su Black Ops 4 a quel punto la storia etere sarebbe praticamente in completa minoranza con solo 4 mappe contro le altre che dovrebbero essere penso a questo punto 22 della storia etere qualcosa del genere più di 20 ne sono sicuro quindi sarebbero veramente veramente tantissime mappe e praticamente tutta la storia etere potrebbe essere giocata in un solo capitolo anche in ordine cronologico perché potendo partire da World at War poi Black Ops 1 facendo anche tutti gli easter egg ora che ci penso perché tutti stati ovviamente riportati e fatti come si deve giocare anche le mappe di Victims Chronicles e comunque le mappe di Black Ops 2 legate alla storia dei Victims partire con i primis Origins tutto il ciclo con Black Ops 3 e poi la parte mancante dell'alterazione del ciclo con Black Ops 4 qualcosa di veramente veramente assurdo c'è ancora sempre il problema che alcune mappe state già riportate come Blood of the Dead, Classified, Nuketown e ovviamente Call of the Dead che sono già considerabili remake e remastered probabilmente sono i cosiddetti heavy remake quindi non soltanto le mappe copie incollate tutte uguali bensì tantissime alterazioni, zone in più, tantissimi oggetti in più da costruire anche crew diverse perché già per dire Blood abbiamo i primis mentre nell'originale avevamo la crew di Mob of the Dead anche per Call of the Dead abbiamo adesso i Victims e non più i quattro attori famosi tutto così per dire e quindi alcune cose come anche per dire Classified su Five avevamo i membri lì che c'erano del governo mentre abbiamo gli Ultimis quindi quella è sicuramente una grandissima alterazione e non c'è la storia proprio perfetta perfetta però sarebbero comunque tutte le mappe in qualche modo rimasterizzate su Black Ops 4 spero come sempre ragazzi di oggi vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo un abbraccio Ala